Ciao a tutti ragazzi, rieccoci, ben ritrovati, allora innanzitutto vi chiedo se è possibile di iscrivervi al canale, mettere like e attivare la campanella perché è comunque molto importante per l'attività stessa del canale, della nostra community, quindi è tutto gratuito e poi troverete i video sul vostro smartphone, così potete commentarli, potete guardarli solamente, magari commentare anche quello che è successo in Coppa Italia in Coppa Italia contro l'Atalanta, Milan che viene escluso da questa manifestazione, abbiamo tutti un po' una sensazione di amarezza perché alla vigilia della sfida contro l'Atalanta pensavamo tutti che il Milan potesse arrivare in fondo alla competizione provare a vincere un trofeo in questa stagione e invece sarà una stagione comunque negativa a meno che il Milan non ci sorprenda con una clamorosa rimonta in campionato o un clamoroso cammino in Europa League ma sinceramente ho dei dubbi e ora vi spiego anche il perché perché per arrivare in fondo ad una competizione, per riuscire a vincere un trofeo bisogna avere una squadra continua, una squadra che abbia continuità bisogna avere una squadra che giochi bene a calcio, cose che il Milan non ha in questo momento quindi o accade un miracolo e per esempio in Europa League va tutto bene al Milan compreso gli arbitraggi, visto che gli arbitraggi comunque nell'ultimo periodo per quanto riguarda i rossoneri non stanno andando bene oppure questa stagione è destinata ad essere fallimentare diciamola a tutti ragazzi l'esclusione del Milan dalla Coppa Italia è un altro flop stagionale di Stefano Pioli dell'allenatore perché ho visto una formazione molto molto confusionaria in campo contro i bergamaschi tanti cambi, tanti esperimenti difesa 3, poi giocatori che entrano e non sanno cosa fare una tattica che porta poi anche a portare poi confusione purtroppo il Milan ha già fallito la Champions League nel senso che è stato estromesso dalla Champions la competizione più importante che c'è in Europa è lontano 9 punti dalla vetta e recuperare 9 punti all'Inter è veramente veramente faticoso e difficile vuol dire che l'Inter deve letteralmente crollare mentre il Milan deve vincere tutte in Coppa Italia è fuori resta l'Europa League ma ripeto al di là del concetto di obiettivo da raggiungere questa squadra non è continua non ha continuità continua invece ad essere una formazione che vince una partita ne perde un'altra vince una partita e pareggia quella successiva non riesce mai a fare un filotto di 6, 7, 8 vittorie di fila il Milan era reduce dal successo contro il Sassuolo dal successo contro il Cagliari e l'Empoli e poi cosa succede? perde perde anche con una squadra titolare perché all'interno della formazione che Pioli ha scelto per affrontare i Bergamaschi per affrontare il gruppo di Giampiero Gasperini c'erano 7, 8 titolari e poi al di là di questo vedo molta molta confusione ribadisco a livello tattico soprattutto una squadra che quando prende gol poi crolla una squadra che non riesce a reagire che concede almeno 20-30 minuti all'interno stesso del match all'avversario la partita quanto dura? 90 minuti il Milan ne gioca 60 massimo 70 poi c'è sempre quella ci sono sempre quei 20 minuti, mezz'ora dove l'avversario spinge e ha la meglio sui rossonieri comunque io penso che le responsabilità come sempre oltre ai giocatori sono dell'allenatore è un altro flop da attribuire alla stagione del Milan e all'allenatore io penso che le cose stiano così ha parlato Roberto Sorrentino che è il papà del portiere Stefano Sorrentino intervenuto a Teleclub Italia a una trasmissione napoletana in cui ha parlato di Antonio Conte lui è molto amico di Conte lo ha incontrato anche all'Olimpico Grande Torino durante la partita tra Torino e Napoli e sul Napoli ha detto con Conte si è parlato certamente del Napoli anche perché io lo rivedo ogni anno con Antonio c'è un rapporto di amicizia e di calcio dopo che siamo stati insieme per 4 stagioni alla Juve e poi ha parlato anche del Milan e lui dice se abbiamo parlato anche di Milan direi proprio di sì risponde così direi proprio di sì quindi vuol dire che l'argomento Milan è ancora un argomento attuale per Antonio Conte vediamo come andrà a finire chi prenderà Conte per la prossima stagione il Milan la Juve il Napoli la Roma ci sono 3-4 squadre che vogliono mettere le mani sul tecnico italiano che è reduce da un'esperienza non proprio fortunata con il Tottenham ma soprattutto da un anno sabbatico un anno in cui ha deciso di non allenare e di fermarsi ma io penso che l'anno prossimo sia comunque pronto per ricominciare il Milan non ha detto no all'ipotesi Antonio Conte il Milan aspetta e vede e valuta quello che succede le richieste economiche del tecnico le possibili mosse sul mercato i desideri di Antonio Conte sul calcio mercato quindi io penso che Conte sia una possibilità per il Milan vediamo cosa succede da qui a 5 mesi quando penso si concluderà il ciclo Stefano Pioli sulla panchina del Milan e chiudiamo invece il nostro video con notizie di mercato perché come abbiamo detto anche nel video di questa mattina Rade Krunic è davvero ad un passo dal Fenerbace il club turco ha alzato l'offerta a circa 5 milioni bonus compresi per il centrocampista bosniaco Krunic che praticamente nelle prossime ore si trasferirà in Turchia si stanno preparando tutti i documenti per poi consentire a Krunic di organizzare il viaggio per la Turchia e il Milan di incassare i soldi offerti dal Fenerbace un addio un po' deludente soprattutto per quello che è successo con Krunic nell'ultimo periodo in quanto Krunic semplicemente ha deciso di forzare la mano e di interrompere il rapporto con il Milan andando un po' allo scontro non si è allenato più bene è stata un po' una delusione anche dal profilo umano e professionale Rade Krunic che chiude male secondo me la sua avventura con il Milan nonostante i tanti anni di permanenza un Rade Krunic che è un po' veramente deluso per come si è comportato un po' deluso anche Luca Romero mi aspettavo qualcosa in più dall'argentino invece anche lui è vicino alla conclusione il rapporto con il Milan in questa stagione dovrebbe andare infatti in prestito al Como c'è anche il Venezia e c'è anche il Lecce ci sono queste tre squadre ma diciamo che c'è stato il raggiungimento di un accordo tra Milan e Como per il prestito di Luca Romero ora sta veramente a lui decidere se andare o no in prestito ma da lui mi aspettavo qualcosina in più mi aspettavo qualcosina in più perché comunque ha tutte le qualità però ecco anche lui un po' deludente dopo l'esperienza alla Lazio pensavo fosse già pronto per subentrare magari dalla panchina con la maglia del Milan nel corso della stagione e dare un apporto maggiore invece ancora non lo è quindi chiudiamo il video con queste due delusioni diciamo così sul campo un abbraccio a tutti ci vediamo alla prossima